In tre mesi saranno 7.100 i nuovi contratti siglati in provincia di Piacenza, è la previsione della Camera di Commercio dell'Emilia riguardo al trimestre aprile-maggio-giugno che sancirà un risultato superiore dello 0,3% rispetto all'anno scorso. Cresce quindi il mercato del lavoro a Piacenza, dopo il buon andamento nel mese di marzo saranno 2.040 nuovi contratti attivati ad aprile che significa più 4,6% rispetto allo stesso periodo nel 2023. Le imprese che attiveranno nuovi contratti rappresentano il 17% del totale e guarderanno in particolare ai giovani che rappresentano il 28% dei destinatari. Nel 55% dei casi però le imprese non riescono a reperire le figure professionali ricercate. I contratti proposti sono per il 74% rappresentati dal lavoro dipendente, di cui 25% a tempo indeterminato e 40% a tempo determinato. I settori di attività in cui si assume di più sono i servizi di logistica, trasporto e magazzinaggio, i servizi di alloggio e ristorazione, l'industria meccanica e elettronica e il settore edile. Le tre professioni più richieste sono relative agli addetti nelle attività di ristorazione, i conduttori di veicoli e gli addetti alle vendite. L'esperienza nella professione è richiesta nel 60,5% dei casi ai titoli più elevati, nel 22,3% agli intermedi e nel 12,7% a quelli che hanno il titolo della scuola dell'obbligo. Per quanto concerne le figure professionali, i dati camerali attestano che nell'ambito dirigenziale con elevata specializzazione tecnica la ricerca di tecnici dei rapporti con i mercati è molto difficile nell'87,2% dei casi.